Quando una coppia scoppia, purtroppo il Tribunale deve intervenire. Mi riferisco in questo momento alle coppie legate al matrimonio. Che cosa succede? Succede che per arrivare al divorzio bisogna necessariamente procedere con la separazione. È un momento molto drammatico, lo so, mi rendo conto. È il momento più drammatico rispetto al divorzio perché è l'inizio della fine di un legame coniugale, magari con figli ancora molto piccoli. La separazione può essere consensuale o giudiziale e la separazione giudiziale può essere con o senza debito. Il mio consiglio è sempre quello di procedere consensualmente laddove possibile, ma per fare una separazione consensuale consapevole, a mio parere, occorre un percorso di mediazione familiare o quantomeno la capacità dei conigi di mantenere intatto un canale di comunicazione. Conosco tante consensuali fasulle che sono state celebrate semplicemente per fare presto per pagare meno spese legali, non serve. Una separazione consensuale che non riesce può diventare addirittura molto più pericolosa perché poi comunque si deve ritornare in tribunale per modificarne le condizioni se uno dei due o entrambi non le hanno rispettate. Credo che il primo consiglio che bisogna dare ai propri assistiti quando c'è una crisi coniugale è tentare di salvare i matrimoni attraverso un percorso di psicoterapia di coppia. Questo è molto importante perché la gente deve separarsi soltanto quando veramente non ci sono alternative e questo lo dico soprattutto quando ci sono figli minorenni molto piccoli perché la separazione è anche la migliore dal punto di vista del dialogo che è rimasto, è sempre un dramma, è sempre una tragedia, ci sono bambini che poi diventeranno bambini con la valigia, palline da ping pong, pacchi postali perché è inevitabile che una separazione va a colpire degli equilibri nei confronti di tutti, soprattutto nei confronti di coloro i quali i bambini, un avvocato non ce l'hanno. Per cui un avvocato di coscienza deve cercare in tutti i modi di salvare il matrimonio, se non si riesce si deve tentare la separazione consensuale e quindi bisogna stabilire a questo punto all'interno di questa sorta di contratto l'affidamento dei figli, i tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore, l'ammontare dell'assegno di mantenimento per l'altro conige se dovuto e se ci sono le condizioni, l'ammontare dell'assegno di mantenimento per i figli e le cosiddette spese straordinarie. Le spese straordinarie spesso sono regolate da protocolli di determinati tribunali italiani, non tutti i tribunali ce l'hanno, però nei tribunali più importanti sono dotati un protocollo per stabilire esattamente quali sono le spese straordinarie, fondamentalmente sono 5, quelle medico-specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, quelle di studio, quelle ludiche, ricreative e sportive. Sono una voce di spesa particolarmente importante che spesso diventa un po' il pomo della discordia di determinate procedure, sia in sede di separazione che in sede di divorzi. Poi c'è la richiesta di addebito, che è una pronuncia accessoria che viene chiesta quando c'è una violazione dell'articolo 143, che quindi riguarda i diritti e i doveri reciproci dei coniugi, quindi obbligo di fedeltà, obbligo di coabitazione e obbligo di concorso alle necessità e ai bisogni della famiglia. La violazione di tutti e tre questi doveri, di questi obblighi o una soltanto può determinare l'addebito. Di solito l'addebito viene chiesto per l'infidelità coniugale, di cui parlerò in una rubrica a parte, ma anche per forme di violenza, anche forme di inosservanza degli obblighi di assistenza familiare. Per quanto riguarda l'addebito per l'infidelità, in sintesi vi posso dire che non tutte le infidelità vengono sanzionate. Ormai la Cassazione si è pronunciata in tal senso e ha sancito che vengono sanzionate con l'addebito le infidelità che sono state consumate durante un matrimonio che fondamentalmente andava bene, cioè che non sono state la causa della crisi coniugale, ma la conseguenza di una crisi coniugale già in atto. Cerco di parlare in maniera semplice perché queste rubriche sono chiaramente dirette a tutti e non agli addetti ai lavori o non soltanto agli addetti ai lavori. Indubbiamente l'addebito è un motivo di maggiore contrasto e litigiosità all'interno delle procedure di separazione. Tenete presente che oggi è possibile separarsi anche con la negoziazione assistita, di cui parlerò in seguito, è possibile quindi non mettere piede in tribunale, è possibile regolare le proprie condizioni di separazione e divorzio o modifica delle condizioni di separazione e divorzio attraverso due avvocati, i quali con la massima lealtà devono ridigere tutte le clausole di queste procedure e con il visto del Pubblico Ministero c'è poi la possibilità entro 10 giorni di trasmettere gli altri dell'ufficio anagrafe, quindi si può evitare il tribunale, anche se la negoziazione assistita per la verità statisticamente parlando non ha preso un grande piede nel nostro Paese, ma c'è questa possibilità. Quindi la separazione è qualcosa di particolarmente complesso sia per la gestione del cliente ma sia per la gestione della causa. Non tutti gli avvocati sono in grado di gestire un processo di questo tipo, ci vuole una specializzazione, ci vuole una esperienza sul campo, non ci si può improvvisare. Come io non mi permetterei mai di fare una causa al Tarra, perché non so neanche dove si trova. Credo che un avvocato che si occupa di diritto amministrativo dovrebbe pensarci mille volte prima di entrare in una vicenda familiare in cui ci sono magari abusi sessuali o sottrazioni di minori, tanto per fare alcuni esempi. E qui c'è quindi la necessità di scegliere un avvocato che sia effettivamente un esperto in materia, perché sbagliare una procedura come questa, quindi la separazione, sia consensuale o giudiziale, può rappresentare veramente la compressione dei diritti delle coppie e soprattutto dei figli.